Il mondo della cultura piacentina piange Ferdinando Arisi, il noto critico d'arte che si è spento ieri all'età di 92 anni. Insigne studioso, ha contribuito a far conoscere gli artisti piacentini oltre i confini provinciali. Una persona estremamente colta ma umile e per questo ben voluta da tutti quelli che hanno avuto modo di frequentarla. Ferdinando Arisi era una vera e propria enciclopedia dell'arte. Già direttore della Ricci Oddi dei Musei Civici, è stato anche professore all'Università Cattolica di Brescia e all'Istituto Gazzola di Piacenza. Tra i suoi allievi Pizzi, Perotti, Grassi, Armodio e Ferrari, il popolare critico d'arte Vittorio Sgarbi lo ha ricordato per la sua straordinaria capacità di divulgatore. Con la morte di Arisi, ha proseguito Sgarbi, assistiamo alla fine di una tradizione di storici piacentini. Un anime è stato anche il cordoglio delle istituzioni locali. Un rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 in San Giovanni in Canale, dove domani mattina alle 9.30 si svolgerà il funerale. Sono state dette tante cose di Ferdinando Arisi in questi giorni. Lei come lo ricorda? Io l'ho avuto un anno insegnante al liceo e ho avuto modo di coglierne subito le modalità di comunicazione. Nessuna ostentazione, niente sopra il rigo, una grande capacità di colloquio, una grande capacità di spiegare, una grande volontà di parlare alla gente. E questa è la cifra che ha avuto anche negli anni della sua attività scientifica, che fra l'altro ha avuto inizio sul bollettino storico piacentino nel 50 con Fermi che gli correggeva l'articolo come poi Arisi è ricordato.